Innanzitutto il tuo stato d'animo alla notizia di tornare a Taranto, di tornare nel Taranto, no? Sì, è fatto immensamente piacere tornare a Taranto comunque perché sono stato benissimo e poi Taranto è indubbiamente una delle migliori piazze, ma non parlo di Serie B ma anche a livello di Serie C è una delle migliori 2-3 piazze d'Italia non dico per riuscionarmi ma la realtà perché comunque dopo tanto girovagare mi rendo conto che Taranto ha delle potenzialità uniche Nel momento in cui ho firmato con il Taranto so che aspettative ci sono che comunque il Taranto deve puntare per forza alla promozione questo è l'obiettivo che ci previstiamo noi, la società, la città, tutti cercherò e cercheremo insieme ai miei compagni di raggiungere questo traguardo importante Penso che bisogna fare qualcosa in più rispetto ad altre piazze perché piazza come Taranto è vero che ti dà tanto però esige tanto quindi ti mette molta pressione addosso e a volte per giocatori di Serie D che fanno fatica a reggere tutta questa pressione quindi ci vorrebbe un po' più di equilibrio però secondo me l'importante è partire bene perché se ne riuscissimo a partire bene le prime partite di campionato poi conoscendo la piazza, conoscendo il pubblico di Taranto poi dopo il pubblico che ti spinge a dare di più quindi sono fondamentale secondo me le prime 6-7 partite di campionato e metterci subito lì in vetta